E' tuttora in corso un interrogatore a Veronica Panarello al carcere di Ragusa, di Agrigento scusate, da parte della procura di Ragusa a chiedere di essere riascoltata la stessa donna che si trovava in carcere con l'accusa di aver ucciso il figlio e di averne occultato il cadavere. Uno sconosciuto ha chiamato la redazione della Sicilia affermando che presso il tribunale di Ragusa vi era una bomba che stava per scoppiare, l'allarma è stato dato dai carabinieri che stanno ispezionando e bonificando il palazzo. Anche per il 2015 la legge speciale su Ibla dovrebbe ottenere un finanziamento della regione in attesa del voto finale dell'Arso, questa notte infatti in commissione bilancio i cinque deputati della provincia di Ragusa hanno avuto il via libera. Sono iniziati ieri i festeggiamenti in onore del patrono di Modica San Giorgio, ieri l'uscita del simulacro piccolo da parte dei bambini, cresce l'attesa per il clou dei festeggiamenti di domenica, festeggiamenti che anche per quest'anno vi racconteremo in diretta. 16 minuti dopo le 14 siamo tornati in diretta con l'informazione su video mediterraneo. Veronica Panarello in carcere ad Agrigento con l'accusa di aver ucciso a Santa Croce Camerina il figlio Loris questa mattina è stata ascoltata dal sostituto procuratore Marco Rota, è stata la stessa donna a chiedere di essere ascoltata dalla procura di Ragusa al colloquio oltre all'avvocato difensore della donna Francesco Villardita c'erano anche Antonino Ciavo, la capo della squadra mobile di Ragusa e Domenico Spadaro dell'investigativa dei carabinieri. La Panarello secondo alcune indiscrezioni nei giorni scorsi avrebbe in parte ritrattato la sua versione iniziale dicendo che la mattina della tragedia avrebbe fatto un percorso diverso dal solito per arrivare alla scuola di Loris e per questo le telecamere non l'avrebbero ripresa. Finora la donna ha sempre detto di aver percorso quella mattina la strada che percorreva ogni giorno. Cambiamo argomento, tre telefonate in dialetto minacciose sono arrivate intorno alle 11 di questa mattina alla sede del giornale La Sicilia, la sede di Ragusa. Una voce maschile diceva in dialetto che c'era una bomba all'interno del tribunale e che nessuno lo voleva credere. Tutt'ora in corso le operazioni di ispezione e di bonifica all'interno del Palazzo di Giustizia Ragusano. Vediamo tutti i particolari nel servizio di Emiliano Di Rosa. Tre telefonate in dialetto minacciose sono arrivate intorno alle 11 di questa mattina nella sede di Ragusa del giornale La Sicilia. Una voce maschile diceva c'è una bomba nel tribunale, non mi vogliono crirri, c'è una bomba nel tribunale di Ragusa, non mi vogliono credere. Alla seconda delle tre telefonate il responsabile della redazione Michele Nani ha avvertito i carabinieri. Poi la scelta di evacuare la struttura di via Natalelli. Alle 12 erano tutti fuori, magistrati, avvocati, personale. Nessun momento di panico comunque. Le operazioni sono state effettuate con la massima calma. Tutte le udienze naturalmente sono state sospese. Un processo per direttissima che era in corso è stato spostato nei locali della questura. Dopo circa un quarto d'ora si è scelto di evacuare anche la sezione lavoro del tribunale, quella di Piazza San Giovanni nel Palazzo Ina. Dentro soltanto i carabinieri per un primo sopralluogo e da poco al lavoro anche artificieri mandati da Catania con i cani anti-esplosivo per una bonifica completa dei locali. Il comandante provinciale dei carabinieri Fragassi sta seguendo direttamente le operazioni. Al momento tutto sembra sotto controllo, quasi certamente. Si è trattato di un falso allarme. Già nel pomeriggio la situazione dovrebbe rientrare nella normalità. Ancora la cronaca in primo piano. La polizia ha arrestato un giovane spacciatore che ieri pomeriggio in pieno centro a Ragusa cedeva droga a giovanissimi. Tutti i particolari da Cinzia Vernuccio. Giovane spacciatore per giovanissimi clienti. La polizia ha arrestato ieri pomeriggio in flagranza di reato un ragazzo 19enne che in piazza San Giovanni a Ragusa ha ceduto due stecchette di hashish a due ragazzini appena quindicenni. Il ragazzo che già lo scorso mese di gennaio era stato denunciato per avere ceduto droga a minori era tenuto sotto controllo dagli agenti che ieri intorno alle 16 hanno notato la sua presenza in centro assieme alla fidanzata e uno strano via vai di giovani nella zona. L'operazione è scattata non appena la polizia ha visto lo scambio tra i ragazzi, un involucro in cambio di banconote. E la perquisizione ha dato esito positivo. Addosso al giovane spacciatore sono state trovate le banconote cedute poco prima dai minori acquirenti e altre dosi di stupefacente già suddiviso e pronto per la vendita. mentre nella sua abitazione è stato trovato anche un bilancino di precisione. Tutti sono stati condotti in questura dove sono stati chiamati anche i genitori dei giovanissimi clienti che sono stati segnalati al prefetto come assuntori di sostanze stupefacenti e quindi entreranno a far parte dei progetti previsti per i tossicodipendenti. Il 19enne è stato arrestato per spaccio con l'aggravante di avere ceduto droga a due minori di appena 15 anni. Le operazioni della squadra mobile continueranno per capire la provenienza dello stupefacente. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro e del comando provinciale di Ragusa insieme agli ispettori civili in questi giorni hanno proseguito le ispezioni finalizzate alla verifica dell'osservanza dei contratti di lavoro e della sicurezza nei cantieri di Ragusa e dintorni. Le ispezioni hanno interessato differenti tipologie di attività. In due cantieri edili sono state riscontrate irregolarità relativa alla sicurezza e sono state elevate sanzioni per oltre 4 mila euro. In due negozi di abbigliamento sono stati trovati due lavoratori in nero e questo ha fatto scattare in un caso la maxi sanzione di 4 mila euro e in un altro caso la sospensione dell'attività. In tre negozi cinesi è stato invece rilevato l'illecito utilizzo di telecamere. In tutto sono stati recuperati i contributi IMS per 22 mila euro. Scappa senza pagare il conto della trattoria dove aveva pranzato mentre la proprietaria poi dopo lo rincorre. È successo a Ragusa in via Sant'Anna quando una pattuglia dei carabinieri di Scoglitti che transitava per caso ha notato quanto accadeva inseguendo l'uomo che è stato bloccato grazie all'ausilio della Polizia di Stato allertata dalla proprietaria del ristorante. In manette per i reati di oltraggio, resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali e insolvenza fraudolente è finito il pluri pregiudicato Aldo Brucaletta di 57 anni che si trova adesso agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria Iblea. Il vertice europeo straordinario dedicato all'emergenza e immigrazione ha deciso di triplicare i fondi destinati alle missioni Triton e Poseidon. Vediamo. Dal vertice europeo straordinario sull'immigrazione l'operazione Triton incassa il triplo delle risorse finanziarie raggiungendo 120 milioni di euro raggiungendo il budget di Mare Nostrum. Dunque il summit ha offerto un colpo di scena in positivo e la solidarietà dell'Unione europea prende corpo, seppur timidamente. Infatti sul ricollocamento e il re-insediamento con una distribuzione tra stati e dei migranti, il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker avrebbe voluto un risultato più ambizioso. Ma le resistenze sono state forti e resta la volontarietà degli stati. Ma per il capo dell'esecutivo dell'Unione europea non è finita. Il tema promette tornerà sul tavolo con l'agenda per l'immigrazione che sarà presentata il 13 maggio e con il prossimo summit dell'Unione europea di giugno. Intanto il premier britannico Cameron offre una nave porta elicotteri, tre elicotteri e due pattugliatori con la mission di fare operazioni di soccorso e salvataggio in stretto contatto con Frontex e le autorità italiane, ma al di fuori di Triton. Questo però a patto che le persone salvate siano portate nelle paese sicuro più vicino, probabilmente in Italia, e che non chiedano asilo al Regno Unito. Tempi più lunghi si parla comunque di un paio di mesi almeno per mettere in piedi invece la missione di Polizia europea di sicurezza e difesa comune. E sulle condizioni in cui lavorano tutti i giorni i poliziotti per affrontare l'emergenza sbarchi interviene con un comunicato stampa a firma del segretario provinciale Giorgio Pluchino, il SILP CGL. Pluchino nella nota fa riferimento allo sbarco del 17 aprile scorso quando i poliziotti salendo a bordo di una nave della Marina Militare per le operazioni di sbarco si sono trovati sprovvisti degli equipaggiamenti adeguati al caso considerato, scrive Pluchino, che i migranti a bordo probabilmente non erano ancora stati sottoposti agli accertamenti medici da parte dei sanitari dell'ASP. Grazie alla Marina Militare gli sono stati forniti tutte monouso per la protezione individuale. Per la questura, scrive ancora il SILP CGL, è stata un'emergenza, un'eccezionalità che non si ripeterà più. Per il sindacato non è un'emergenza la carenza ormai cronica di uomini, l'inadequatezza dei flussi di equipaggiamento. Questo il comunicato a firma della SILP CGL. Riformata la sentenza in primo grado a carico dei genitori di Larissa, la bimba di 6 anni investita è uccisa da un locomotore il 9 marzo 2011 in territorio di San Pieri. La Corte d'Appello di Catania è infatti condannato a due anni di reclusione ciascuno con la sospensione condizionale. I due genitori ritenuti responsabili di abbandono di persone minori, aggravato e in concorso. L'avvocato difensore preannuncia ricorso in Cassazione. Anche per il 2015 la legge speciale su IBLA dovrebbe ottenere un finanziamento dalla regione. Tutti i particolari all'interno del servizio di Emiliano Di Rosa. In una situazione di lacrime e sangue per ammissione degli stessi deputati è passato favorevolmente questa notte in Commissione Bilancio l'unico emendamento per iniziative speciali che anche nel 2015 rifinanzia le leggi su IBLA e Ortigia. Il quartiere barocco di Ragusa e IBLA scrivono in una nota congiunta i parlamentari regionali di Pasquale, Ferreri, Assenza, Di Giacomo e Ragusa potrà contare quest'anno su 2 milioni di euro. A Siracusa per il quartiere di Ortigia vanno 650 mila euro. Nonostante le enormi difficoltà economiche della Sicilia e nonostante fosse stata da più parti evidenziata l'impossibilità di ottenere risorse per IBLA proprio per le ristrettezze finanziarie, attraverso questo emendamento presentato alle 4 di questa notte si è riusciti a salvare almeno una parte dei soldi e poco meno della metà rispetto agli ultimi anni. Per questi 2 milioni di euro, scrivono assieme i 5 deputati IBLEI, la Commissione Bilancio va ringraziata nella sua interezza perché ha accolto al photo finish le istanze che nella seduta del giorno prima erano state invece rigettate, causa assoluta carenza di risorse. E dunque alla fine il finanziamento per IBLA e Ortigia, ancorché ridotto rispetto al passato, c'è, rappresenta un'assoluta eccezione e con somme non indifferenti concludono i parlamentari regionali che adesso dovranno naturalmente difendere questi 2 milioni di euro anche in aula quando verranno votati bilancio e finanziaria. Come preannunciato ieri sera all'interno di MTG 120 secondi, Mario Dasta è il nuovo presidente dell'Assemblea Provinciale del Partito Democratico di Ragusa. Dasta è stato eletto ieri sera nella nuova assemblea convocata a seguito dell'annullamento delle elezioni di Lino Giacquinta da parte della Commissione Nazionale di Garanzia. Permangono alcune polemiche tra le varie componenti del partito e il neopresidente dichiara oggi di voler ricomporre le fratture con l'auspicio che il PD torni a fare politica sul territorio. Sentiamo. Eletto all'unanimità dai presenti ieri in assemblea, Mario Dasta, consigliere comunale a Palazzo dell'Aquila e il nuovo presidente dell'Assemblea Provinciale del PD di Ragusa. Primo punto per il nuovo presidente, dopo mesi di polemiche, frizioni, spaccature, è cercare di ricomporre il partito. Il compio del segretario Denaro è anche il mio quello di ricomporre il partito a livello provinciale perché abbiamo bisogno di tutti. A tal proposito in direzione provinciale sono rimasti delle 20 collocazioni che fanno capo al livello del risultato congressuale che è quello che vedeva il segretario candidato, segretario calabrese. Nel corso dell'assemblea che si è svolta a Comiso è stata anche votata l'unione comunale di Ragusa, ma come fa notare Peppe Calabrese del circolo Pippo Tumino, di ragusani ne mancavano tantissimi perché non convocati. E dunque la frattura con una parte consistente del PD del comune capoluogo resta. Il nuovo presidente avrà il suo bel da fare su questo. Conclude con l'auspicio che ora, con gli organismi eletti, il PD provinciale torni a fare politica per il territorio. Manca il motivo per cui nasce un partito, il collante tra il territorio, gli elettori, i cittadini. Si è sentito questo vuoto e ieri con la mia elezione, ma ripeto col completamento degli organismi dirigenti, cominciamo a fare politica. Si svolgeranno domenica prossima le primarie all'interno del Partito Democratico a Scicli per scegliere il candidato sindaco alle prossime amministrative di primavera. Anche se ancora il Ministero dell'Interno non si è espresso sullo scioglimento o meno del Consiglio Comunale, il PD si legge in una nota. Con serenità e determinazione ha già avviato le primarie. Domenica prossima presso la Camera del Lavoro il primo appuntamento pubblico in cui saranno resi noti i candidati a sindaco e illustrati i punti chiave del programma politico e amministrativo in vista delle consultazioni previste per il prossimo 1 maggio. Ricordiamo che l'appuntamento è per domenica. Troppe le criticità del bilancio consuntivo 2014 del Comune di Vittoria e quanto dichiara il consigliere comunale Andrea Larosa, secondo cui scrive che sono le stesse perplessità a cui sono pervenuti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, perplessità che non si possono non tenere in considerazione. È stato chiesto di monitorare costantemente la spesa corrente che si attesta su livelli elevati, contribuendo ad innalzare l'indice di rigidità delle spese complessive e di monitorare tutte le aziende speciali e gli organismi partecipati. I debiti fuori bilancio, aggiunge il consigliere Larosa, pur essendo di importo inferiore all'anno precedente, risultano comunque elevati. Ribadisco, conclude il consigliere di Vittoria Andrea Larosa, che si tratta delle conclusioni a cui sono addivenuti i Revisori dei Conti. Si sono aperti ufficialmente ieri sera, giorno di San Giorgio, i festeggiamenti in onore del patrono principale di Modica. Vediamo com'è andata. Con l'uscita di San Giorgio Piccolo, ieri si sono ufficialmente aperti i festeggiamenti in onore del patrono principale di Modica, San Giorgio. Facciamo la scolignata di San Giorgio, arriviamo a Castello, mi sembra, e poi scendiamo a Bermolico e basta. Io amo pure questa festa, ma di più perché la stadia rappresenta tante cose per me, come la salvezza di un cavaliere che salva una ragazza. Un'attesa che dura un intero anno e che raccoglie numerosi bambini e ragazzini che già sin da piccoli manifestano una forte devozione per il Santo Martire. Un bel evento che ogni anno dà la conferma che la festa di San Giorgio e Modica non potrebbe mai mancare e che nel tempo verrà portata avanti da altre generazioni. In attesa dell'uscita trionfale del Santo, ieri i più piccini hanno portato fuori dal Duomo, in giro per le strade principali di Modica alta, il piccolo simulacro del Santo. Una tradizione che è nata da poco e che tende a far avvicinare sempre di più i più piccoli al mondo dei festeggiamenti del patrono Modicano. E anche per quest'anno un ricco programma con tanti appuntamenti, tra cui sabato sera l'atteso concerto sulla scalinata del Duomo del cantante Modicano Giovanni Caccamo. Domenica l'uscita di San Giorgio è prevista per le 16.30 e anche per quest'anno i festeggiamenti del Santo Principale di Modica entreranno direttamente nelle vostre case tramite le nostre telecamere. E' prevista per le 16.30 l'uscita trionfale di San Giorgio a Modica, Domenica. Orario che coincide con l'inizio della nostra diretta che porterà all'interno delle vostre case i festeggiamenti tanto attesi in onore del patrono principale di Modica. Quest'anno saranno Viviana Sammito e Marco Scavino a raccontarvi le fasi salienti dei festeggiamenti. Dopo la tradizionale uscita i portatori saliranno sino a Modica Alta. Prima tappa, Santa Teresa, confermata davanti la società operaia e poi di corsa il Santo percorrerà le tradizionali tappe ad eccezione del carcere in quanto chiuso. Alle 22 prenderà vita la seconda parte della diretta dove vi verranno raccontate e mostrate le fasi più belle della festa patronale. Durante questa parte i telespettatori potranno intervenire in diretta, un'occasione che dà l'opportunità ai telespettatori di poter vivere i festeggiamenti anche da casa e in diverse parti del mondo grazie al vasto bouquet di canali che vi permetterà di seguirci. Video Mediterraneo canale 11 e poi sui canali 605 sul 274 e sul 676 e in streaming sul sito videomediterraneo.it. Appuntamento dunque a domenica a partire dalle 16.30. La rivoluzione del latte, il tema della puntata odierna di live, la trasmissione in onda ogni venerdì alle 21.30 su Video Mediterraneo. Cinzia Vernuccio insieme ai suoi ospiti, Pietro Greco, direttore della Col di Retti di Ragusa, Enzo Cavallo, presidente del distretto produttivo lattiero caseario e Mattia Occhipinti, allevatore, affronterà le problematiche relative al prezzo del latte e all'iniziativa della Col di Retti che prevede l'esportazione del latte ebleo in Calabria. 14.35, ci fermiamo per la pausa pubblicitaria, torniamo subito dopo. 14.41, siamo tornati in diretta in apertura di questa seconda parte, un servizio del nostro ufficio commerciale. Dupont Italia ha tenuto al palmento Rudini di Marzamemi un convegno sulla gestione sostenibile e della difesa delle produzioni ortofrutticole, con particolare riferimento alla tuta absoluta, il lepidottero letale per le coltivazioni di pomodoro. Il seminario ha raccolto docenti universitari e ricercatori per sensibilizzare gli imprenditori agricoli a intensificare consapevolmente nel rispetto dei dosaggi la lotta alla tuta absoluta. I criteri di lotta in generale devono essere basati su strategie integrate che prevedono l'uso contemporaneo di diverse tecniche, ovviamente di prevenzione, ma anche poi di lotta biologica, di monitoraggio, di catture massali e per mezzo di terapolaggio e non ultimo anche il controllo biologico e il controllo chimico, che sono appunto le misure, diciamo, di lotta diretta. Dopo il seminario si è svolta una dimostrazione in serra. La Sicilia in qualche modo è stata una punta di lancia, nel senso che la coltivazione intensiva del pomodoro e l'uso non corretto dei prodotti, nel senso di una mancata strategia antiresistenza, l'utilizzo al di fuori del consentito, dell'autorizzato, delle molecole, ha indotto dei fenomeni di resistenza. DuPont prosegue così la sua azione di sensibilizzazione per coinvolgere direttamente i produttori e per salvaguardarne le produzioni nel rispetto all'ambiente. DuPont ancora una volta è stata chiamata in causa perché nel 2009, quando arrivò questo temibile insetto, abbiamo dato le soluzioni, abbiamo aiutato i tecnici ad affrontare questo insetto, questo filominatore. Poi pare un po' l'attenzione sulla sua difesa si è diminuita, l'agricoltore si è distratto e quindi abbiamo avuto già dal 2004 dei fenomeni, delle segnalazioni di forti attacchi di tuta assoluta. Quindi oggi siamo qui per ricordare quali sono le strategie, non solo con i mezzi agronomici ma anche chimici, e qual è la strategia più corretta per controllare la tuta assoluta. Il cantautore ragusano Lorenzo Vizzini, considerato tra i più promettenti cantautori della nuova generazione, è stato ospite stamattina all'interno della trasmissione condotta da Daniele Voj, Buongiorno, e la radio su Radio Mediterraneo. Vizzini ha risposto ad alcune domande legate al suo escursus artistico e alla collaborazione con Ronnerla Avanoni e Mario Lavezzi. Il cantautore ragusano ha scelto Radio Mediterraneo per presentare in anteprima l'album d'esordio Il Viaggio, che uscirà il prossimo mese. Il Viaggio unisce l'eleganza della scrittura al sound internazionale, l'acustico all'elettronico e il tema principale è la rinascita, la ripartenza verso un nuovo inizio dopo il superamento coraggioso del passato. Dieci le tracce che compongono l'album. Durante il Talk Radio è stato trasmesso su Radio Mediterraneo il brano autobiografico del cantautore ragusano Lorenzo Vizzini, vita nuova da oggi in tutte le radio che anticipa l'uscita dell'album. Gli appuntamenti, assemblea pubblica alle 17.30 presso l'ex Camera del Lavoro di Scicli organizzata dal Movimento Scicli Bene Comune e presieduta dal commissario straordinario del Comune. Si parlerà di rifiuti. Per Agusa in Fiore alle 20 sul Ponte Vecchio Radio Weird, selezione musicale commentata da Vincent Migliorisi, mentre alle 21.45 al Teatro Ideal Simona Norato in concerto. Ventinovesima edizione della Sagra dei Cavatiedi a Monte Rosso Almo, domani in piazza Sant'Antonio. Cavatiedi, Pagnuccata, Cannoli, Crispelle e Vino, tutto cotto secondo l'antica tradizione mediterranea. La serata sarà allietata dal gruppo folcloristico Nunnellapa e Musca. La manifestazione è organizzata dal Comitato dei Festeggiamenti di Maria Santissima a Dolorata. Gli appuntamenti della prima serata sulle nostre reti, canale 11, ore 21, box a seguire alle 21.30 live, canale 605, ore 21.30 la replica della Madonna di Gulfi 2015, canale 694, ore 21.30 fuori dal Comune. 14.46, non ci sono aggiornamenti da parte delle agenzie, pertanto l'appuntamento con l'informazione termina qui. Grazie per averci scelto e buon proseguimento su Video Mediterraneo. Grazie per aver guardato il video.